non si fa niente a me c'è una mese non si fa niente io vengo a chiedere che c'è tutto solo sette eh un po' vabbè giurano da fare la maniera ne capito e sette ne fa troppo va bene ma se li bussate no questo non vuole che non bussate devo dire una maniera che c'era? ho fatto tre sette eh tre sette eh no ci vuole eh eh ci vuole sto ribussata pulita se ce n'hai che mi fai e questo qua c'è una vera pulita eh questo 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 ecco 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 ecco